buongiorno a tutti ragazzi si è girato il papa che ci vuole dire qualcosa si è girato e si è girato è stato orizzontale allora noi lo mettiamo qui e lo teniamo qui per tutta la lettura sicuramente avrà qualcosa da dirci e noi andiamo avanti con le nostre cartine vediamo quindi quali saranno le energie di oggi o intorno ad oggi e se volete una sessione privata con me di tarocchi o magari volete andare a guardare le vostre vite passate e volete scoprire per quale motivo le disgrazie che state vivendo in questa vita e oppure volete andare a oppure se sentite il bisogno invece di fare una bella sessione di coaching che secondo me è sempre utile nei periodi di maggiore stress di maggiore difficoltà nella vita io vi invito a inviare una email alla mia assistente o in alternativa potete andare sul sito internet e prenotare da soli ecco la prima carta che è caduta prendiamo ecco la seconda che è caduta e ci manca la terza carta ed eccola qui ok wow abbiamo un bel sei di coppe rovesciato abbiamo un nove di spade e un re di coppe con a corona come si dice nel mondo della tarologia a corona abbiamo il papa orizzontale e allora dunque invito come sempre i miei studenti a mettere in pausa dare le loro interpretazioni e seguire questa sei di coppe rovesciato voi ormai lo sapete il sei di coppe con il metodo mai è la carta delle anime gemelle quindi anima gemella cicova eh sì ragazzi sì e il fatto però qual è che quando l'anima gemella arriva diritta che bello benissimo ma quando l'anima gemella arriva rovesciata vuol dire che quello con cui noi stiamo avendo a che fare in questo momento è la sfida che la nostra anima gemella ci sta mettendo di fronte e non il piacere di stare insieme ad una delle nostre anime gemelle sottolineo ovviamente come sempre che le anime gemelle per ciascuno di noi sono tante sono diverse la fiamma è quella che viene considerata una ma comunque è solamente una terminologia il discorso fatto bene lo trovate nei videocorsi però ecco quando noi abbiamo un sei di coppe rovesciato vuol dire che una di queste persone che noi possiamo definire una di queste anime che noi possiamo definire anime gemelle sta interagendo con noi in modo tale da metterci di fronte proprio la lezione che dobbiamo imparare quindi proprio sta lì proprio a toccare i nostri punti deboli questo tipo di azione può essere compiuta o di presenza o a distanza anzi siccome quando si tratta di karma di anime gemelle di legami carmici fiamme gemelle il legame energetico fra queste due anime è talmente tanto forte che davvero a distanza si sente che cosa sta facendo l'altro o si sente che cosa succede all'altro con la telepsichia noi impariamo a capire che cosa l'altro pensa e a trasmettere i pensieri all'altra persona in modo tale da tra virgolette condizionare i suoi ma ma quando ci troviamo in una situazione del genere è molto probabile che ciò che sta accadendo è che noi invece riceviamo dei pensieri da una delle nostre anime gemelle perché ve lo dico perché questa carta così appunto rappresenta il lato più il lato più negativo potremmo dire il lato più difficile da gestire delle situazioni con le nostre anime karmiche con le nostre anime compagni o quello che sia il nove di spade invece rappresenta la nostra preoccupazione il nostro stress relativamente a questo dunque di cosa stiamo parlando allora stiamo parlando di un qualcosa che anche a distanza può raggiungerci e provocarci stress e pensieri anche dalla anche a distanza noi possiamo ricevere i pensieri di questa persona e in base al tipo di energia e di pensieri che questa persona ci sta trasmettendo la nostra reazione è quella del nove di spade cioè del non sapere esattamente cosa fare e come comportarci se invece quest'anima gemella ce l'abbiamo vicina proprio fisicamente ce l'abbiamo lì ecco che ovviamente l'effetto l'effetto può essere ancora più impattante ancora più grosso quindi io credo comunque che le energie di oggi saranno più o meno forti in base alla vicinanza o alla lontananza fisica di questa persona molto dipenderà da quello con la carta del papa intanto volevo prendere anche altre due cartine con la carta del papa orizzontale la sensazione che ho è oltre che di amplificare ulteriormente questa sacralità questo significato questa come dire questa visione metafisica di ciò che stiamo osservando come se la guardassimo dall'alto come se tutto ciò che sta accadendo fosse appunto già in qualche modo programmato prima studiato prima guidato dall'alto da una divinità superiore perché il papa è fra gli arcani colui che è connesso con la divinità e che lascia che gli eventi accadano come devono accadere perché tanto comunque andrà andrà bene se è dio che ci guida questa è la visione del papa e quindi sembra proprio che questo qualcosa che sta accadendo o questa fase che stiamo attraversando con questa persona sia un po una fase obbligata una fase forzata che dovevamo attraversare a noi va bene non c'è nessun problema ad attraversare questo genere di fasi perché comunque stanno sempre hanno sempre lo scopo di stimolare in noi una crescita di stimolare in noi delle piccole comprensioni delle piccole prese di consapevolezza il pa il re di coppe finale ci dice però quale sarà comunque l'atteggiamento finale che noi sceglieremo di avere nei confronti di questa situazione però noi possiamo anche sentirci sotto stress perché una certa persona ci mette in difficoltà perché una certa persona ci fa venire dei dubbi tocca certi tasti magari ci fa anche male o ci mette in difficoltà perché ci mette alla prova ci sentiamo costantemente messi alla prova dobbiamo prendere magari delle decisioni difficili ci sentiamo spinti nel prendere decisioni che non sono nostre o comunque che noi avremmo preso in modo diverso ecco i motivi per cui un'anima gemella può stressarci sono tantissimi anche perché a volte ciò che accade fra anime gemelle è che una riesce benissimo a manipolare l'altra una ha di solito non sempre ma una delle due ha un potere talmente tanto forte sull'altra da condizionare la sua interesistenza dai più piccoli atteggiamenti alle cose più grandi alle scelte più importanti della vita risveglia la sacerdotessa che è in te lascia che gli arcani ti svelino i loro segreti e impara a leggere i tarocchi con il metodo maya www.vocidagliangeli.com non è sempre così ma a volte capita questa questo succede ad esempio quando che ne so una persona in una vita precedente era mio padre o mia madre è ovvio che o meglio non è ovvio ma è probabile che questa persona avrà magari ancora un'influenza su di me così come l'aveva da genitore quindi se in un'altra vita tendeva a guidarmi lungo il cammino a dirmi cosa fare come farlo ecco che in questa vita potrebbero essere rimaste tracce di quel comportamento protettivo di quel volermi guidare ed ecco che io potrei incontrare una l'incarnazione di un tizio che prima era mio padre e magari in questa vita siamo molto amici e o è il mio partner o è un'amica o è una sorella o qualunque cosa e in qualche modo questa persona continua a guidarmi continua a trasmettermi quell'energia quindi a volte dipende appunto dalla situazione pregressa delle vite precedenti questa condiziona la nostra vita attuale condizione i nostri comportamenti attuali e soprattutto le sensazioni che proviamo nei confronti degli altri il risultato finale di questa stesa è il re di coppe ciò significa che comunque qualunque cosa accada qualunque sia questo sentimento questa sensazione che ci che che arriva a noi questo questo dubbio su come agire questa sensazione di non sapere bene cosa fare nonostante questo noi ce ne usciamo come re di coppe come persone che agiscono in modo maturo quindi che non fanno scherzi che non fanno stupidaggini ma che scelgono davvero la strada più matura la strada più saggia la migliore per tutti se poi noi prendiamo questa carta corona e la abbiniamo a questa cosa che possiamo benissimo fare vediamo come amplifichiamo ulteriormente questo significato di maturità e di comportamento corretto che ci viene dal re di coppe un paio di cosine che vorrei aggiungere è che nel giorno di oggi dovete tenere d'occhio il colore rosso e allora vi dico subito che qualcuno di voi dovrebbe stare attento ai semafori e dovrebbe stare attento al rosso questo ve lo dico perché mi è arrivato chiarissimamente ma proprio chiarissimamente un avviso per persone che guidano distrattamente o stanche o non guardate il cellulare non scrivete messaggio a cellulare non parlate al telefono mentre guidate state attenti al rosso altra cosa oggi probabilmente vi farà molto bene indossare abiti rossi se ne avete e vi spiego anche perché o meglio in realtà il perché è uscita la carta col colore rosso però noi non possiamo essere così scemi che solo perché esce il rosso allora ci dobbiamo vestire di rosso ecco no non è quello non è quel tipo di lettura io sto in questo momento associando questo colore rosso a questa carta che è la carta della puntualità per avvisarvi di stare attenti ai semafori perché se avete fretta correte siete distratti è ovvio l'abbinamento a questo punto fra queste due carte stiamo proprio parlando di attenzione alle luci rosse che vi appaiono per strada o comunque o comunque il rosso in questo caso in questo caso il rosso parla di bandiera rossa cioè state attenti alle bandiere rosse potrebbe anche infatti significare cercate di essere puntuali è importantissimo essere puntuali ma allo stesso tempo ovviamente non correte con la macchina cercate di organizzarvi prima per essere puntuali cercate di svegliarvi a un orario decente la mattina o comunque di organizzare la vostra giornata in modo da essere puntuali puntualissimi anzi questa carta dice proprio puntualissimi altra cosa il rosso io il rosso lo associo a questo e non perché io sono io e mi piace così ma perché il rosso a livello proprio neurolinguistico per noi il rosso per noi esseri umani rappresenta lo spirito se qualcuno ci chiede di visualizzare il nostro spirito non sarà così per tutti ma per molti di noi lo spirito verrà visualizzato come un qualcosa di colore rosso proprio perché il rosso che viene che rappresenta l'energia maschile per eccellenza in nel mondo esoterico il rosso rappresenta l'energia maschile anche se noi mettiamo l'azzurro alle femminucce e il ro scusate anche se noi mettiamo l'azzurro ai maschietti e il rosa alle femminucce appena nate sappiate che non dovrebbe essere proprio così perché in realtà la parte femminile è quella più blu azzurra indaco in teoria è la parte maschile quella più rossa stiamo parlando di vibrazioni i colori sono vibrazioni sono frequenze la luce trasmette il colore e la luce è fatta da onde con una certa frequenza quindi l'energia è collegata al colore in diversi modi ora il colore rosso che è uscito su questa carta più il colore rosso che viene identificato con l'energia maschile che rappresenta lo spirito la parte di noi più saggia la parte di noi che anche un più maschile più attiva più potremmo anche dire quella che ha quella in cui è contenuta la nostra morale quindi il nostro atteggiamento ecco che il l'abito del papa in questa stesa in questa carta è di colore rosso mentre il papa appoggia i piedi su un panno viola qui la simbologia è molto particolare ed è anche molto bella perché appunto il rosso sta rappresentando questo maschile questa figura maschile spirituale collegata con l'infinito con dio ai piedi abbiamo il viola che invece rappresenta una perfetta fusione fra il maschile e femminile infatti se voi mettete insieme il rosso e il blu che cosa esce fuori il viola quindi la fusione fra maschile e femminile viene rappresentata dal viola e in questa carta le abbiamo entrambe perché il papa è una carta sacra che connette l'essere umano a dio in vari modi vabbè se volete scendere più nel dettaglio c'è il video corso già dal primo livello arcani maggiori ne parliamo il cos'altro vi posso dire ecco appunto che questa associazione fra i due rossi amplifica ulteriormente il bisogno di rosso amplifica ulteriormente il nostro bisogno di dar retta alla nostra morale a fare al fare le cose seguendo le regole le nostre regole magari se non vogliamo seguire quello degli altri non importa seguiamo però le nostre regole ora andiamo a prendere la nostra cartina angelica per vedere che cos'altro gli angeli oggi hanno da dirci vediamo un po' sì comunque vi stavo dicendo passo indietro vestitevi di rosso oltre al vestito rosso del papa e al rosso qui mi arriva intuitivamente il discorso che a molti di voi farà comodo vestirsi di rosso se avete da fare delle cose che riguardano magari incontri di lavoro appuntamenti di lavoro oppure se dovete incontrare qualcuno con cui vi serve essere molto forti molto fermi molto sicuri di voi stessi ecco oggi probabilmente è la giornata giusta oggi qualcuno di voi ne avrà bisogno di questo consiglio e quindi se avete da fare delle cose che implicano la vostra sicurezza in voi stessi la vostra forza interiore il vostro potere personale ecco insomma se dovete fare cose importanti vestitevi di rosso assolutamente prendiamo ora la nostra cartina angelica e intanto ragazzi io vi ricordo che per diventare miei studenti quindi per studiare i tarocchi con il metodo maya no troppe per studiare i tarocchi con il metodo maya o per studiare magia d'amore telepsichia o fare percorsi di tipo spirituale o di crescita personale più serie impegnativi concentrati e focalizzati proprio sulla crescita personale psicologia karmica ed energetica o guarigione karmica ed energetica comunque sia inviate un whatsapp al 338 81 91 267 e senza impegno vi spiegheremo cosa avete che opzioni avete dunque la carta dice innanzitutto che noi siamo entrati in contatto con una parte di noi stessi ed ecco che questo incontro con questa parte di noi stessi ci permette di incarnare l'energia del papa o quantomeno di canalizzarne una parte e utilizzarla a nostro vantaggio per questa giornata quando noi entriamo in contatto con noi stessi noi addiamo alla nostra anima la possibilità e il potere di manifestarsi a pieno in teoria se noi riuscissimo davvero ad entrare in contatto con noi stessi al 100 per cento noi avremo i i cosiddetti superpoteri quelle che nella cultura hindu si chiamano siddi le siddi sono proprio queste capacità definite paranormali nel mondo occidentale che riguardano la capacità di vedere a distanza il remote viewing la chiaroveggenza quindi vedere le aure i colori o il l'essere recettivi nei confronti di varie informazioni che arrivano da diversi piani dimensionali insomma un po tutto quello la telepatia per esempio ecco un po tutta questa roba si chiamano siddi sono dei poteri che si sviluppano durante il percorso di crescita spirituale e man mano che voi ritrovate appunto la centratura con voi stessi con la vostra anima e più andate avanti avanzate in questo percorso più poteri avete senza esagerare e soprattutto senza dir balle perché voi sapete che a me non piacciono le balle quindi vi parlo di esperienze dirette o quasi quando io vivevo quando mi sono trovata nell'ashram di amma il mio guru a varca in ad amrita puri nel sud dell'india e sia io che altri miei amici abbiamo assistito a dei veri e propri miracoli quelli che comunque vengono descritti ad esempio nella bibbia e nelle storie del cristo come dei miracoli quando una persona cambia il colore di un di una cenere di fronte ai tuoi occhi e da cenere grigia la fa diventare rossa quello è uno del è una di quelle tipiche cose che appunto venivano attribuite all'epoca gesù cristo ecco in realtà si tratta di cose che sono cose che anime molto evolute sono capaci di fare in modo spontaneo e naturale proprio perché hanno sviluppato questi poteri queste siddi quindi più noi ritroviamo noi stessi passo dopo passo ognuno di noi nel nostro piccolo più noi incarniamo appunto questa energia e riusciamo ad avere potere sulla realtà e riusciamo a modificare a elaborare la realtà questa carta ci parla anche però di nuove collaborazioni nuovi contratti nuove persone con cui potremmo cominciare a far qualcosa sia professionalmente sia in generale il consiglio è quello di andare avanti su questa strada perché sembra che stiamo facendo le scelte giuste e per il resto ragazzi a questo punto io vi invito di nuovo a inviare un whatsapp per diventare studenti o inviare un email per fare tutto il resto e ci vediamo domani grazie grazie